Ospite ai nostri microfoni il pastore Giuseppe Platone. Buongiorno Giuseppe, benvenuto su Radio Bequit. Grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Allora ti abbiamo invitato per parlarci di un'iniziativa che si svolgerà dal 21 al 27 maggio alla Casa Valdese di Vallecrosia. Siamo nella zona del Ponente Ligure, quasi al confine con la Francia. La Casa Valdese di Vallecrosia è una casa per vacanze conosciuta, credo ai più che ci ascoltano o che in qualche modo l'hanno frequentata nelle loro varie vicissitudini. Se non la conoscete andate a conoscerla perché è una bellissima struttura, oltre che una struttura molto accogliente per poter fare delle vacanze al mare. Diciamo che la proposta che ti vede coinvolto, caro Giuseppe, è una proposta di un'esperienza, un'esperienza al mare che vuole unire, certo, dei momenti liberi ma anche dei momenti di riflessione, di avvicinamento alla parola. È così? Come nasce un po' quest'idea? Ma, intanto l'idea non è tanto mia quanto della direttrice Elisa Ruboli, che poi ha dovuto lasciare qualche mese fa per ragioni, credo, di salute, di famiglia, eccetera, ed è subentrato un giovane direttore nuovo, Manuel Amadori, il quale mi ha chiesto di portare avanti questa iniziativa di cui mi aveva parlato la Elisa Ruboli. Cioè, in breve, lei diceva, parlo dello scorso anno in estate, ero lì a fare qualche giorno di vacanza, mi ha agganciato e mi ha detto Zizi, pardon, Platone, Giuseppe, insomma, perché non facciamo anche qui come facevi a Borgio Verezzi e altrove delle settimane di spiritualità? Dico, va bene, se tu me lo chiedi, io ormai non mi propongo come merito, però se mi invitano volentieri. E abbiamo buttato giù un progetto, la parola, intesa come parola biblica, riferimento essenziale, e le parole, cioè la guerra, la disoccupazione, i problemi, il futuro, no, le nostre parole, e la parola di Dio. Brevi studi biblici, soprattutto con partecipazione, dove ognuno racconta un po' di sé, non il culto dove parla solo il pastore. Insomma, una cosa così, leggera, poi si affronterà un tema pomeridiano, o un film, o la presentazione di un libro. Cioè l'idea è che ogni giorno abbiamo un tema diverso. Un giorno parleremo, scusate, direi dello slancio della fede. Tutto inizia con Abramo, che molla tutto e va, e sappiamo. Poi parleremo della potenza dell'immagine, dell'arte. Parleremo anche del non solo parlare, ma anche camminare. Cioè il peripattetico, girare che cosa fa, cosa dice, c'è una filosofia del camminare, e altre cose che è un po' una sorpresa. Concluderemo questa settimana, la domenica, lunedì sono già le partenze, con il culto con la chiesa di Bordigher, in questo bellissimo tempio storico luterano, che è della chiesa valdese, e con la comunità locale che c'è, e consumeremo un'agape insieme. Quindi la domenica celebramo il culto e stiamo insieme con quelli che ci sono. Ora, io posto un po' una condizione, ho detto, io lo faccio, ma vorrei un prezzo politico. Perché insomma, pensiamo anche la gente che è al mare non ci va, la seconda casa non ce l'ha, eccetera, eccetera. E allora questa è un po' la novità. In camera doppia, volendo uno può avere anche una singola eventualmente, costa 45 euro al giorno. Cioè io ci tengo a questo, che è possibile per, insomma, penso più o meno tutti, colazione, pranzo, cena, più tutto il programma. Un'altra cosa carina, se riusciamo ad avere i numeri, spero proprio di sì, e di fare una gita, mi pare il mercoledì, o il giovedì, non ricordo bene, a Nizza, Nisse, a vedere il Musée du Message Biblique Chagall, Mark Chagall. Grande pittore, grande sognatore della Bibbia, una Bibbia a colori, i colori di Chagall, che ritroviamo a Gerusalemme, per chi c'è stato, c'è una bella sinagoga, affrescata da lui e in tante altre parti d'Europa, no? È veramente impressionante. Anche per chi l'ha già visto, rivederlo, ecco, quindi sarà una gita, una gita, cioè quindi un programma leggero, spiritualità, ma io vorrei anche partecipazione, cioè raccontami tu che cosa pensi di questo passo biblico, come reagisci, domanda, ma tu ti emozioni ancora a leggere la Bibbia o no? Dimmi la verità, solo la verità, nientanto che la verità. E lì allora ci divertiamo un po' a discutere e io sono molto contento di questa iniziativa perché noi abbiamo bisogno, andiamo al culto, torniamo a casa, buongiorno, buonasera, abbiamo bisogno di parlare, non dico com'è che sono un pastore, ma ci sarà anche un altro pastore con me. È merito anche lui e del priore che ogni tanto si affacerà per intervenire, per dire qualcosa di grandissima esperienza. È un pastore che ha fatto il giro d'Italia veramente, ha tante comunità, una grande, ed è lucidissimo, anche se siamo abbastanza anziani, insomma. E poi ci sarà il pastore locale, anche insomma saremo circondati da pastore, dal clero valdese, no? E poi per stare anche un po' in allegria, un po' insieme, mangiare, lì c'è un grande giardino e del mare, il mare... No, ci sono dei ricordi un po' negativi sul mare, attenzione. A Vallecosa hanno rifatto la passeggiata a mare verso Bordighera, verso Ospedaletti. E anche verso Ventimiglia. E anche verso Ventimiglia. Scusate, io vado sempre a sinistra, ma è giusto andare anche a destra. Ecco, sì, bellissima. Bellissima, fruibile, tranquilla, pedonale. E quindi, insomma, ci sarà modo di... Poi se uno non si sente camminare stanco, non c'è problema. C'è questo grande giardino con l'ombra, poi le stanze sono state rinnovate. Insomma, io dico questo. Se vi interessa... Allora, io ho scritto nella pubblicità, quando ho dovuto scrivere qualche pensiero, credenti e non credenti. Io mi diverto di più con i non credenti, a dire la verità, perché ti stimola di più. Più stimolante. Però è arricchente anche per i credenti. Insomma, c'è sempre da imparare. Non ci sarà il professorino che sarei io, che viene lì, che ti fa la lezioncina. No. Breve introduzione, riflessioni, qualche canto. E insomma, adesso non posso e non voglio neanche entrare nel dettaglio, se no vi racconto già tutto. L'importante è iscriversi. Ora, naturalmente, non avendo io un mio ufficio, come pastore, perché sono emerito, lavoro improprio, ho chiesto alla Casa Valdese di fare, lo fa più che volentieri, un riferimento per iscriversi. Bisogna telefonare o scrivere una mail il più presto possibile, perché i posti sono limitati. Esatto. C'è l'indicazione e l'invito a iscriversi per chi fosse interessato entro il 5 maggio. Sì, 5 chiudiamo e vediamo. E tra pochissimo. Quindi, se siete interessati, in effetti andate sul sito Casa Valdese, troverete i contatti. Allora, vi do l'indirizzo esatto. Casa Valdese, casavallecrosia.it. Questo è il sito ufficiale della Casa Valdese di Valle Crosia. Lo trovate anche inserito nei circuiti della Diaconia Valdese. Però, sul sito trovate i contatti, l'email, il numero di telefono per prenotare, appunto, entro il 5 maggio, anche per permettere poi di organizzare questa settimana. Sì, beh, diciamo, nella mente io ce l'ho abbastanza chiara. Poi, naturalmente, se dicono ci sono solo una dozzina di partecipanti, non so se la facciamo. Quindi è importante. Ma per me è importante per chi può andare al mare in quella stagione, fine maggio, con questa cifra che è veramente politica e con un programma. A te non te ne frega niente perché hai dormito male. Non c'è problemi. Non è che devi timbrare la cartolina. Cioè, il programma è libero. C'è molta libertà. Molta libertà. E dicevi, prima, che sono delle esperienze che, peraltro, avete già fatto e facevate a Borgio Verezzi. Sono andate bene. Io voglio ricordare in particolare il pastore Alberto Taccia, di cui un grandissimo ricordo. Mi emoziono anche a pensarlo. Quando partimmo da Torino, visto che era la casa della Chiesa Valdesi di Torino, a Borgio Verezzi, Casa Valdesi con tutta una storia, che lui ha scritto. Poi ha scritto un librettino su questa casa e dice perché non facciamo una settimana. Lui ed io organizzavamo questa settimana dove magari ci alternavamo negli studi biblici. Ma la gente vuotava il sacco. Aveva una voglia folle di raccontare la propria vita. Tra l'altro anche a noi pastori fa piacere a trovare qualcuno che ci ascolti oltre al sermone. Quindi è nata così, con Taccia, che mi ha spinto in questa direzione e poi per tanti anni. Poi sono stato a Milano. Da Milano abbiamo fatto anche diverse, retretta sempre a Borgio Verezzi, praticamente tutti gli anni. E poi siamo riusciti a fare anche dei campi al Bagnou, da Milano, quando ero a Milano, fino al 17. A D'Angronia, in Valpellice. Sì, a D'Angronia, in Valpellice, la cadra. Quindi questa cosa di Valecosa è una cosa preziosa, importante. Se riesce, la possiamo, Dio volendo, insomma, io poi sono anziano, posso anche andarmi ad un momento all'altro, ma comunque spero di no. Non tanto presto, ma non sono così disperato. Però si può replicare. Si può replicare, esatto, per il futuro. Se però non riesce questa volta, insomma, te lo dico, guarda Daniele, in grande sincerità. Io lo faccio anche per incoraggiare, il nuovo direttore, Manuel, della casa. È giovane, è alla sua prima esperienza, ha preso il timone di questa barca e se dovesse fallire, beh, lui ci rimane male. Io ci rimango male. Se volete che, insomma... Che la gente non ci rimanga male. No, ma voi vedrete, la cucina è curatissima, soprattutto il cuoco, la cuoca, eccetera, molto ben organizzata, un po' spartana, se vuoi, però molto, molto efficiente. Io ho fatto le vacanze l'anno scorso e se non le avessi fatte non sarei qua, ma... Certo, molto accogliente. Quindi dal 21 al 27 maggio, ricordiamo le date, le iscrizioni fino al 5 maggio. Affrettatevi, informatevi, chiedete informazioni, trovate anche delle comunicazioni, è stato ricordato su Riforma, è stato ricordato su tante circolari delle nostre chiese. Questa settimana di esperienza, la parola e le parole, itinerari biblici della nostra vita. Aggiungo questo, non è previsto un pullman che va là. Perché? Perché uno viene da Torino, l'altro viene da Pravostino. Autonomi. Lo spostamento fino a Bordighera in treno, secondo me è la cosa migliore, Bordighera a 20 miglia, poi sul posto si può fare una telefonata e vedere o prendere un taxi, 10 euro, non riusciamo a... No, certo. Se però qualcuno vuol venire in macchina, in auto, va bene, perché magari a Nizza possiamo fare un gruppo di 3-4 automobili, se non siamo tanti, se no affittiamo un pulmino. Tra arte e quindi fede, spiritualità e chiacchierate in libertà, col piacere di intrecciare e rinnovare i contatti tra noi. CasaValleCrosia.it, riferimento per le vostre iscrizioni. Grazie, pastore Giuseppe Platone. Grazie a voi dell'ospitalità.